Alzi la mano chi ha fatto almeno una volta uno di questi sacrifici per una vita sana. Alimentazione, attività fisica, meditazione, prevenzione medica. Ok, sai qual è uno dei più grandi paradossi della nostra società? Facciamo tanti sacrifici per vivere il più a lungo possibile e poi abbiamo paura di invecchiare. Ma perché abbiamo questa paura di invecchiare? La natura ci insegna che il ciclo della vita dà il suo meglio proprio verso la fine. Pensiamo per esempio al bruco che nasce strisciando, poi invecchia e impara a volare fino a diventare una bellissima farfalla. Oppure pensiamo semplicemente alla giornata che dà il meglio di sé proprio al tramonto, con quei colori meravigliosi. Per l'essere umano funziona esattamente allo stesso modo. Me lo hanno insegnato tanti anziani straordinari e coloratissimi. Una in particolare, mia nonna Lisa Fertz. Non so quanti di voi hanno un rapporto speciale con la propria nonna. Io con mia nonna ho sempre avuto un legame unico. In particolare dal 26 settembre del 1989, quando mia madre, la sua unica figlia, è venuta a mancare all'improvviso a 28 anni. Io avevo 4 anni e mezzo, nonna ne aveva 59 e lei dice sempre che quella è la prima volta che le ho salvato la vita. Io dico che è stato esattamente il contrario, che è stata lei a salvare la vita a me. Ma lei insiste, dice che le ho salvato la vita tre volte. La seconda è stata quando, all'età di 20 anni, ho deciso di andare a vivere insieme ai miei nonni, dopo che lei era caduta rompendosi il femore. La terza è stata quando, nel 2017, l'ho aiutata a sollevarsi dalla depressione per cui era caduta in seguito alla morte di nonno dopo 64 anni di matrimonio, in modo insolito, con un profilo Instagram. Io prima le avevo provate tutte per risollevarla, ma non c'era verso. Nonna aveva passato gli ultimi dieci anni chiusa in casa con nonno, affetto da una brutta forma di demenza senile. Si era isolata per stare con lui, sempre con dolcezza e con il sorriso, per stare con il suo grande amore. Quando nonno poi era venuto a mancare, nonna si era sentita persa. Si sentiva inutile, diceva che la sua vita non aveva più senso. Si sentiva un peso per la famiglia e per la società. L'unico modo che ho trovato è stato invertire la formula. Sono diventato io a chiedere aiuto a lei. Nonna, guarda, ho aperto questa nuova pizzeria, mi piacerebbe tanto provarla, ma nessun mio amico vuole venire e io mi vergogno a mangiare da solo. Ti va di venire con me? Oppure, nonna, guarda, ho comprato una nuova macchina fotografica, non so bene come funziona, ti va di aiutarmi a fare delle prove? E così, con queste prove, a marzo del 2018, ho pubblicato il suo primo post su Instagram. Nonna da subito ha ricevuto tantissimo affetto, tantissimi commenti e messaggi che le dicevano sei bellissima, sei meravigliosa, grazie per l'allegria che ci porti, e le chiedevano tanti consigli. E foto dopo foto, messaggio dopo messaggio, dopo il tempo insieme, nonna si era finalmente risollevata dalla depressione ed era tornata felice. Già questo potrebbe essere un finale. Ma quello che è successo dopo è ancora più straordinario. Più o meno un anno dopo, da Monaco di Bafiera, Selina, una designer di gioielli, ci scrive perché voleva nonna per la sua campagna pubblicitaria. Stava selezionando modelle giovani e anziane per dimostrare che la bellezza delle donne non ha età. Sarebbe stato meraviglioso, però cavolo, viaggiare. Nonna aveva 89 anni, era troppo grande per viaggiare, era pericoloso. Poi nonna comunque sia è cardiopatica, ha l'artrite, l'amaculopatia, due protesi alle anche. che sarebbe stato meglio evitare. Fortunatamente Selina ci teneva così tanto ad avere nonna in questa campagna che venne lei a casa nostra a scattare queste foto. Ci chiese anche quanto volevamo, ma noi non abbiamo voluto niente perché tutto questo gioco su Instagram era nato per far vivere a nonna qualcosa di diverso e per distrarla. L'unica cosa che chiedemmo furono i diritti di queste foto, fra cui il diritto della foto che ha cambiato per sempre la nostra vita. Quando Selina è venuta a casa nostra, ha proposto a nonna di posare in desabille per far vedere che la bellezza delle donne non scade come lo yogurt. Nonna ha accettato subito, entusiasta di essere ambasciatrice di questo messaggio e inaspettatamente questa foto è diventata virale. Ha fatto il giro di media in tutto il mondo e così nonna a 89 anni era diventata improvvisamente una modella professionista e l'influencer più anziana d'Italia. Io da quel momento mi sono sentito l'uomo più ricco del mondo perché se avessi potuto comprare qualcosa avrei comprato del tempo con mia nonna e aver fatto del nostro tempo un lavoro mi permette di stare con lei tutto il giorno e per questo sono infinitamente grato alla vita. Questa foto ha anche portato diverse critiche perché la nostra società non è pronta ancora a vedere la vecchiaia femminile. Pensiamo che il complimento che si fa più frequentemente a una donna G è sei ancora una bella donna come se vecchiaia e bellezza non potessero convivere. Ma con nonna abbiamo lottato anche contro questo. Nonna si è ritrovata a essere un attivista e da quel momento quello che abbiamo vissuto è stata una cosa incredibilmente ancora più straordinaria. Ordinario e straordinario avevano iniziato a confondersi. Era normale viaggiare con nonna in giro per l'Italia vederla posare per servizi fotografici per riviste andare in televisione. Ricordo però il momento esatto in cui ho realizzato quanto fosse straordinario quello che stavamo vivendo. Era un pomeriggio grigio d'autunno ero sul divano con mia moglie e mi arriva un messaggio. Vedo, rispondo poso mia moglie mi fa chi era? Dico niente amore era Andrea mi ha chiesto come si chiama il vibratore che hanno regalato alla nonna. Ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere realizzando quanto quello ordinario e quello straordinario si fossero ormai mischiati. Ma la cosa più straordinaria è stata la lezione che mia nonna mi ha dato ovvero sia realizzare che la vecchiaia non è una malattia. Non è cardiopatica. Quando abbiamo iniziato questo percorso nel 2017 nonna aveva il 25% di efficienza cardiaca. Stava per lo più a casa non aveva una vita particolarmente attiva anche la sua rete sociale era abbastanza ridotta. Poi che cosa è successo? Abbiamo iniziato appunto a viaggiare a vivere al massimo e quando siamo tornati dopo qualche anno dal cardiologo a rifare l'esame siamo rimasti sconvolti. Nonna nel 2021 aveva il 40% di efficienza cardiaca oltre a sembrare molto più giovane. L'anno dopo siamo tornati ancora a fare la visita con il timore che tutto andasse bene e era ancora migliorata. Ma quello che ci siamo chiesti allora era che cosa è cambiato? Grazie a mia nonna è cambiata la mia visione della vecchiaia. Io prima credevo che per stare con mia nonna dovessi andarla a trovare a casa convinto che era bene farla stare tranquilla ignorando che quella che io chiamavo tranquillità lei la chiamava monotonia ed è tossica. Nonna mi ha insegnato che quello che serve è essere attivi è buttarsi. Io mi sono accorto che avevo sbagliato la mia paura più grande. Io ero convinto che la mia paura più grande fosse che nonna morisse. Invece era come se avevo paura che nonna vivesse l'organizzazione mondiale della sanità insiste molto sull'invecchiamento attivo perché dice che l'invecchiamento globale della popolazione comporterà richieste sociali ed economiche alle quali bisognerà far fronte. Mantenere la popolazione attiva è dunque una necessità e non un lusso e per proteggere i nostri anziani dobbiamo guardare la loro sicurezza la loro partecipazione attiva alla vita comunitaria e la loro salute intesa non solo come fisica ma anche come benessere mentale e psicologico. Chi ha la fortuna di avere ancora i nonni o i genitori o anche un vicino di casa anziano particolarmente simpatico che cosa può fare di concreto? Credetemi basta veramente poco per esempio mettere delle nuove abitudini delle nuove routine come quella di andare a mangiare fuori insieme è inimmaginabile l'impatto che può avere andare a mangiare fuori insieme primo perché avere un obiettivo a breve termine a cui aggrapparsi è fondamentale per ogni persona anziana è uno stimolo così come sono tantissimi gli stimoli del pranzo fuori i sapori gli odori incontrare nuove persone ascoltare storie e per di più questa abitudine ci aiuta anche a rispondere a una delle domande che nonni e genitori fanno più di frequente ovvero sia ma quando ci vediamo basta mettere questa nuova routine mi rendo conto che è difficile per chi vive lontano dai suoi anziani ma c'è il piano B che è ancora migliore viaggiare in famiglia viaggiare per gli anziani è fondamentale tutti quanti i benefici dell'andare a mangiare fuori insieme nel viaggiare sono amplificati solamente la notizia di fare un viaggio con i propri anziani è un qualcosa che porta allegria solamente avere quell'obiettivo è un qualcosa a cui aggrapparsi per non parlare dell'esercizio mnemonico della pianificazione del viaggio delle piccole responsabilità che si possono dare per esempio nonna guarda i biglietti del viaggio li tieni tu per continuare a far sentire i nostri anziani utili e attivi ci sono degli studi che dimostrano addirittura che anche solamente ricordare e parlare di quel viaggio una volta che si è tornati rilascia endorfine quindi almeno un viaggio all'anno anche un weekend ha un valore fondamentale uno può pensare ok ma è difficile viaggiare con una persona anziana non è vero è facilissimo e meraviglioso le compagnie aeree o ferroviarie fanno di tutto per facilitare la vita qui c'è mia nonna che per il suo compleanno per i suoi 93 anni le ho fatto una sorpresa e l'ho portata per la prima volta in volo ha preso un aereo per la prima volta la stessa nonna che io 5 anni fa dicevo nonna non può viaggiare è troppo vecchia oggi prende gli aerei viaggia ed è più viva che mai questo è uno dei sogni della nonna che ho realizzato ma abbiamo un sogno ancora più grande e per realizzarlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quanti sogniamo un mondo in cui vecchio o vecchia non sia più un dispregiativo sogniamo un mondo in cui non si dica più sei ancora una bella donna o una società che non definisca coraggiosa una signora di 90 anni che si mette il costume per andare a fare il bagno al mare per cambiare tutti insieme la visione di vecchiaia basta mettere in pratica i consigli che ho dato prima oppure in maniera molto semplice a Natale invece che regalare ai nonni pigiama o pantofole regaliamo una bella camicia colorata con la quale uscire regaliamo un weekend in questo modo potremo sperimentare in prima persona gli straordinari benefici dell'invecchiamento attivo e così riusciremo a essere non solo grati per essere la generazione più longeva della storia ma anche la prima generazione che vede la vecchiaia come un traguardo e non ha più paura ricordandoci che l'essere umano fa parte della natura e la natura ci stupisce sempre verso la fine come per esempio dopo un giorno grigio di pioggia con un tramonto coloratissimo questo perché la natura sa che la bellezza della vita è inseparabile dalla sua fragilità e per questo dobbiamo viverla senza paura fino all'ultimo giorno in realtà questo non me l'ha insegnato propriamente la natura me lo ha insegnato una forza della natura la forza della natura che più mi ha insegnato nella vita e che ho il piacere e l'onore di presentare mia nonna Lisa Perz grazie nonna ha 93 anni come te lo sanno pochi ma com'è la vecchiaia? la vecchiaia è bellissima dalla gioventù passi alla vecchiaia sono come le stagioni dell'anno devi cogliere il lato migliore e ce ne sono tante durante la stagione nonna che cos'è? che cosa significa per te viaggiare? viaggiare è una cosa che mi esalta si apre la mente lo spirito e sono curiosissima conosco conosco molte persone e mi piace quando vado nelle città e nei posti andare proprio conoscerla per bene andare nei posti che non c'è va nessuno e io voglio sapere tutto perché a questa età più capisco meglio è nonna tu sei la persona che più mi ha insegnato nella vita sia con l'esempio sia con la pratica volendo insegnare qualcosa a tutte quante le persone che sono qui qual è l'insegnamento più grande che puoi lasciare? io credo che queste persone non abbiano bisogno del mio insediamento ma devono seguire la mia strada a non aver paura della vecchiaia perché la cosa più bella che ci sia volere bene a se stessi alle altri e fare del bene più possibile e non criticare mai nessuno e aiutare il prossimo perché come dici sempre senza amore senza amore non si vive l'amore è quello che ti dà la vita ti dà la gioia di vivere e tu nonna me ne hai dato all'infinito grazie guarda guarda che io voglio ancora vivere a lungo finché non è il momento voglio avere tutte le gioie ancora che ci sono nella vita e le avrai e andare anche a tutti gli eventi perché guardate che bello mi piace grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti